Non si aveva mai pensato nessuno, penso di non pecare di pretensione nel dire che questa idea doveva essere messa nel verso bianco, quindi questo non è solo un album fotografico, con tutto il rispetto per i fotografi, per Gianni Zotta, e per, c'è anche Remo Mostra, qui che pure ha fatto, c'è qualche foto sua sul libro, ma dico anche i testi sono molto importanti, perché come ha detto lei poco fa, la testimonianza di Gianluca Rosa, che fu quello che invitò il Papa sull'Adamello e che lo accompagnò poi a sciare nei due giorni sull'Adamello, assieme ad altri, non aveva mai reso pubblica questa cosa, per la prima volta appunto l'ha fatto.